Hai una casella PEC Pro o Premium e vuoi delegarne la gestione a un professionista scegliendo tu i permessi che vuoi concedergli? In questo video ti spiego come usufruire gratuitamente del servizio Supervisore 360, inviando una richiesta di collaborazione o accettandone una. Per inviare una richiesta di collaborazione a un supervisore PEC, puoi accedere a webmail PEC Smart con le tue credenziali, cliccare su Impostazioni e poi su Collaborazioni. Prima di continuare la procedura, ricorda che il professionista che dovrà supportarti nella gestione della casella deve aver già creato un account Supervisore 360 e deve comunicarti il suo username. Se clicchi su Invita Supervisore, infatti, il pannello ti chiede di indicare il nome dell'account Supervisore e i permessi che vuoi assegnargli sulla tua casella. Il permesso di lettura è obbligatorio. Puoi scegliere inoltre se vuoi che possa creare bozze, spostare i tuoi messaggi, inviarli per tuo conto o gestire le impostazioni della casella. Cliccando questo pulsante, il sistema controlla che lo username inserito sia esistente e se lo è, invia la richiesta. Anche l'accettazione di una richiesta di delega avviene da webmail PEC. Dopo aver effettuato l'accesso, webmail Smart mostra direttamente la richiesta di delega. Se le richieste sono multiple, ti appare una notifica con un pulsante, tramite il quale puoi accedere al menu collaborazioni e visualizzarle tutte. Puoi accettare la richiesta di delega così come è, personalizzare i permessi richiesti dal Supervisore o rifiutarla.